Posso andare avanti? Andiamo avanti, Alex, scroffi. Sabato 20, Paolino, Alessia, Vanni Saia, Graziano Cianni, Francesco e Elisa dei Bruri. Mentre sabato 27, Francesca Manzucato, Tony D'Aloia, Michael. E sabato 4, grandissimo appuntamento con Diego Zamboni. A me, bro, a distanza? No! Scusi, mi fa vedere i capelli? Non ce ne ha. No, ce ne ha bloccarmi. Piuttosto che farsi da pierna così a preparare lo bloccarmi. Signore, buonasera! Ehi, che entusiasmo. Dopo non si può morire dentro, cavoli. Questa è la canzone del Covid, eh? Allora, rifacciamo. Signore, signore, buonasera. Ci siamo quasi. Allora, fate un applauso come se mi regalassi 2.000 euro a testa. Aspetta, non prende iniziative. Ti mi mando un fisco a casa. Allora, prima solo le donne. Facciamoci sentire, donne. Su, dai. 1, 2, 3, 2.000 euro a testa. Quanto siete menali. Tutto bene, lei? Le tante frasi le abbiamo fatte a posto perfetto. Facciamoci sentire, sono gli uomini. 2.500, su. Saliamo con la posta. Eeeh. E che entusiasmo. La pensione c'è a fine mese. Non vi preoccupate. Piano piano ci arriviamo. Piano piano. Non loco di stare che già sta sudando come un caimano. Sei fermo lì. Ecco, a posto. Abbiamo aperto il buco dello suono praticamente. Oh. Allora, un applauso generale perché vado per presentarmi un artista stasera per la lista grande. È formidabile. Lui ha riempito i teatri di New York, Los Angeles, Roma. Che è una fiducia, signore. Che siete? Eeeh. Proprio un entusiasmo del nord. Eeeh. Proprio. Eeeh. Signori, su, fatemi sentire un applauso per lui, ci chiede. Forte. Dai, 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 dai. L'induzione di gente. All the for you, Adam e Messier. Signore e signori. Mister Tinani, qui vai con la sigla. Ale. Ale. Applauso. Felicità. Veneci per me, non parlo da un nuovo. Felicità. Non parli la base. Che, che, oh, aspettate. Eeeh, eh, ti amo. Abbiamo preso la terapia stasera. Eeeh, che entusiasmo, no? Mamma mia. Eeeh. Buona. Buona sera. Buonasera. Eeeh, che entusiasmo. Buonasera. Sono un mago, sono venuto a portare una ventata di allegria. A proposito di ventata, in prima fila c'è un altifone, proprio. Velocità e dal tuo fuorismo alla serata, visto che era un po' così, così. Come? Un nome d'arte che mi rappresenta pieno. Sì, Gero Vital, praticamente. Mi chiamo Mister Dynamic. Mie. Mie. Non si può dire. Non si può dire. Quella, tavola dell'Ikea. Che eleganza, che elasticità. Questo va. Questo va qua. Questo va qua. Oh, signori, se vi serve un uomo da giardino, io ve lo leggo. No, no, signora. Non faccia così, che poi aiuta, eh. Con lui ho raggiunto quota 100. Quindi siamo a posto. Voi forse non ci crederete, mi vedo un po' titubanti. Non ci crediamo. No, titubanti, italiano, giuro. Sì, io lavoro molto, specialmente in feste private. Vengo, vengo, non mi interrompo perché non riparto più. Se no, mi cominciamo da capo. San signor, sì, io lavoro molto in feste privati, sia per adulti che per bambini. Ma non si presenta, adulti e bambini. Preferisco i bambini perché gli adulti sono un po' dispettosi. Ah, e stanno i nuovi? L'altra sera mi chiamano a fare una festa privata per adulti, sapete? Chiamano il mago perché porta allegria, velocità, assolutamente. Hanno scelto lei, immagino. Sì. Eravamo liberi io e il mago in fisera. Lui non poterlo, ecco, mi dico, seguendo. E se me lo dico, ove no, uno l'altro. Dunque era lei. Comunque chiamano il mago, alla fine della cena, uno in capo al tavolo, pensate, si fa una sigaretta a mano, eh. Pensate alla fatica a farsi una sigaretta a mano. Poi la cena, tira due boccate veloci, la passa a quello di fianco. Quello di fianco, la prende due boccate veloci, la passa a quello di fianco. Quella sigaretta arriva a me. Ma che bene. Rifiutate il prodotto anche se è antigenico. Mi metto lì per fare due boccate veloci anch'io, no? Quello di fianco, falla girare, falla girare! Sì, lei naturalmente l'ha fatta girare. Sì, non già so. No, ma che schifo, cioè si mette la mascherina. Allora, a un metro di distanza. Sì, bisogna tenere il distanziamento associato. Sì, suona. Sì. Tenga il distanziamento sociale. No, si dice sociale. No, distanziamento è sociale. Se fosse sociale saremmo bracciati. No, non si può fare. Invece per i bambini è bello. Mi chiamano per fare compleanni multipli. Sono specializzato. C'è l'energia. La signora lo conosce, anche la signora è. Raccontiamo, sapare. Lei è talmente importante in multipli, nel senso che molte persone, molti bambini vogliono lei come margo? No, compleanni multipli, nel senso che durante il mio spettacolo ho festeggiato complegli anni più e più volte. No, va bene. Allora, facciamo vedere, li vedo titubati. Signora, che si chiama lei? Juan Bainza. Può neanche mentire, ma non troppo, perché siamo in televisione, quindi... Io mi chiamo Silva. Si chiama? Silva. Silva. Quindi è un mago senza cosa. Non è... Non è un collega. Cioè, ho fatto mille di dollari, una Silva non l'avevo mai conosciuta in vita mia. E anche in questa vita, giuro, prometto. Nell'altra non lo so, però ci parliamo, signora. In questo momento ci sono cambiali in mutuo e due figli a carico, quindi faccia lei. Ci siamo. Faccia lei è un bel gioco. Un bellissimo gioco di prestigio. Si tratta del gioco, fantastico, mica, quasi. No, non si può dire. Non si può dire. Tempi comici che lei ha. Della sparizione della bottiglia. Cos'è il Simpli perché si chiama il gioco della sparizione della bottiglia? Perché la bottiglia sparisce. Eh sì, se c'era un bicchiere, era la sparizione del bicchiere. Beh, per la sparizione della bottiglia serve una bottiglia di vetro e un cartoccio. Signore e signori, un cartoccio. Non sa perché si chiama cartoccio? No. Perché è fatto di carta, se era di seta era un setaccio. Ah. Ma lei... Bene. Il mago. Il mago prende la bottiglia, la inserisce all'interno del cartoccio. Pronuncia la parola magica. Silva Salabin. Guarda, ci chiamo Silva che come parola magica secondo me... Abra-cadabra. Abra-cadabra. Fa un gesto magico, tacca la bottiglia, sparisce. Cioè quindi se lei fa... No, così le appare, cazzo. No, no, no. Non è che possiamo farlo tutti e due. Scusi maestro. Il mago prende la bottiglia, la inserisce... La inserisce, la introduce all'interno del testa e cartoccio. Italiano, giuro maestro. Ah, l'interno del testa e cartoccio. La introduce all'interno del cartoccio. Come ha detto lui, uno, due, tre, abra-cadabra. Gesto magico, la bottiglia è sparita. Eh? Applauso signore, su sulla fiducia. Come no? È successo qualcosa di strano, qualcosa non ha funzionato. Cioè, chi è stato di voi a fare così adesso? Signore, mani in tasca per cortesia. No, mani in tasca no. Bottiglia nel cartoccio, signore, signori, un, due, tre, abra-cadabra. Tac, la bottiglia è sparita. Eh? Signora, signora, è sparita. Io gli ho detto l'applauso, ci va, eh. Quando uno è bravo, è bravo. Vedo della stupanza. Ho ricordato. Lo faccio un'altra volta questo gioco. Almeno magari viene, perché stavolta è così. No, non ci posso fare. Allora, lei era famoso per quel gioco, si fermi, si fermi che dovevamo mantenere di stare. Sì, sì, sì. Per il gioco della corda. Per il gioco della corda? Sì. Signor, signori, faremo un bellissimo gioco con una corda? Signor, senti che ho portato la corda? No, è lei in mare. Cioè, adesso... Qualcuno ha una corda? Anche a casa, capiti qua vicino. No. C'è il cerco la mia. Se non la trovo, però, un problema. Sì, se magari non fanno l'altro migliore da questa parte. La messa a lei? Sì, infatti sono passato. Signor, signori, bellissimo gioco con... Non mi piace averla dietro, però. Bellissimo gioco con una corda. Una corda che deve essere lunga circa due metri. Bellissimo gioco. Signor, signor, farò vedere un bellissimo... C'è un problema. Eh, ce ne abbiamo più aggiunto un problema. Bellissimo gioco con una corda. Signor, signori, è un gioco fantastico. Che faremo con questa corda che... Ah, la mutanda! No! Siamo in televisione, non si può fare. Vabbè? Piano, piano, piano. C'è qualcosa che non va? Sì, no. Ah, e poi... Fino, fino, intrattenga il pubblico. Sì, no. Ah! Aspetti, eh. No. Non tiri, non tiri. Non prendi. Non c'è lei da sotto. Ah! Aspetti, fino a questa isci siamo. Vada! Intrattenga il pubblico. Sì, sono intrattenuto. Signori, canto una canzone. Noi abbiamo finito. Si è sciolto. Dove è andato? Ah, ah, ah. No, piano, non ansimi che siamo in fascia protetta. Distraga il pubblico. No, distrago, però lei sta ansimando. Cioè, non è bello vederla ansimare. Ah, 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 ah. Allora! Piano, piano che non sono le vostre, eh. Però facciamo un cambio. Allora, signor Già se le sta toccando, non va bene. No, ma è che dopo la quarantena erano così, eh. Va bene. Non toccare i 30 decenni. Signor, signora, bellissimo. Gioco con una corda. Io cercherò di farlo perché... Oh, porca vacca. Allora, il gioco della corda, passi. Ma lei cosa ci fa per le mie mutande? Le ho messe... No, le ho messe... Sono le mie, eh. Non ho sbagliato candeggio. Capita. Le ho messe ieri. Perché fino a ieri avevo... Sassi, lo siete. Fino a ieri avevo il perizoma. Aveva? Perizona. Il perizoma. 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 Ma... Non mettetelo, eh. La mutanda più scomoda che esista al mondo. Lui indossa il perizoma. L'ho indossato ieri. Però, però, però. Quanti uomini oltre a lui indossano il perizoma? Non si osano dirlo, la gromba. No, però è scomodissima, eh. Dica. Metto il perizoma. Ero in mutande per cavo che camminavo. Sa che sembravano le orecchie del coca e non la papà? Sì, no. Già, ridendo così. Quello... Ma, brava cosa! E vuole che le faci un selfie mentre corre così. E allora, signora, lei si chiama? Sì, 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 sì. E' brava, lei. Si mettono al contrario. Eh, c'era già la signora che controllava, era così. Poi non vi dico, ho provato a fare due passi di corsa. Prima non hai chiesto il coca, eh. No, è ancora! Due passi di corsa. Vedete, quei giochi dei bambini con le palline. E fa... No! Non chiudono più, sentito. Ma, l'ha esagerato. Salutiamo gli amici di Groupon qua che vedono un po' e lo sto di là costa meno. Però un applauso forte per gli amici di Groupon. Dai! Bravi! Vada, faccia un gioco quello serio con la corda. Con la corda? Controlli se ha una corda. Signori, un applauso così di incoraggiamento. Il primo l'abbiamo perso, però possiamo figliorare. Vada! E vada che devo trovarla. E devo trovarla. E ci va anche una forbice. Una forbice. Posso mettere qua la forbice? La metto piano, eh? Certo. Signori, grazie. La metto piano, la signora l'ha capita dopo la battuta. Sì, ma poi io gliela scrivo, gliela scrivo. Signori, il classico gioco della corda tagliata. Ah, aspetta che sposto di qua, non ti faccio vedere anche gli amici di qua. Voilà! Prego! Il bellissimo gioco che fanno tutti i maghi del mondo e questa è la mia personale versione, eh? Una versione personale fatta solo da lei. Sì, signori. Benzeri, benzeri. Eh? Signori, signori. Ah. Il magro prende una corda che si allunga circa due metri, la va ad annodare ai capi, in questo modo qua. Una volta che la corda è annodata ai capi, va, 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 che bello, che bello, che bello. Sì, no, è il noto, l'eleganza e la velocità del gioco. No, vada, scusi, maestro. Guardi, mi interrompe, però. No, hai ragione. Ma lo porta, solitamente, il nodo in basso e i capi in alto. Con le forbici mi aiuterò per fare un taglio alla corda. Ah, c'è anche la mano. Vabbè, quello è dopo, su, l'artista va avanti. Sì, signori, il classico gioco della corda tagliata e ricostruita, gioco bellissimo, vi chiedo solo di prestarvi tutta la vostra attenzione, perché altrimenti a metà dell'effetto mi ritroverai di nuovo così e cominciare da capo un casino, eh. Quindi, classico gioco. E, cazzo, ma non ci credono neanche loro. Così, ah, eh. C'è un signore di là che sta giocando col telefonino e si è svegliato un attimo. Ho avuto questo momento di vivacità. Signore e signori, classico gioco della corda tagliata e ricostruita. Per fare questo gioco serve una corda che si allunga a circa due metri, il mago prende i capi da una parte, il centro dall'altra, centro da sotto e capi. No, c'è qualcosa che non va. Affigliato. Eh sì, adesso, nel frattempo, nel periodo Covid. Basta portare su un centro, si ottengono due centri, due centri, praticamente due corde lunghe uguali. Ma che bello, eh. Ma che bello, ma che bello. Due corde lunghe uguali. Ma che bello, eh. Ho capito niente, però andiamo avanti. Neanche io, neanche io. Allora, molti mani, per non far vedere al pubblico che hanno due corde separate, cosa fanno? Fanno un nodo in questa maniera qua, semplicemente perché? Perché a una certa distanza, dicono che non si veda. Sì. E tengono la corda così in movimento. Adesso a quale distanza? Al paese di fronte non si vede il nodo così. Lo vedete? Sì. Tutto bene? Non mi tocchi, sia o meno o neanche sulla corda. Se ce l'ha con me lo dice però. Allora, si vede, cioè. Allora. Ricordi la dà, ricordi la dà. Non è qua. Ma non ci ho capito nulla, ma. Neanche no, ma che va fatto? Non lo so anch'io. Piano, piano, non rallenti troppo l'esibizione. Signore, signore, ve l'ho detto che mi chiamo un mestre ordinario. No, la città, sì. Classico gioco della corda tagliata e ricostruita. Serve una corda che si arriva a circa due metri e il marco va a tagliarla esattamente la metà. La metà sarebbe il centro, perché non parla italiano, lo spiego. Perfetto. Terzo, prendo le forbici, le ho messe da qualche parte. Eh, provi. Posso portare? Sì, in Italia. Certo. No. Ma anche senza forbici, va bene. Ok. Oh. Oh, un applauso. Classico gioco della corda tagliata e ricostruita. Un gioco fantastico che mi piace molto. Lo fanno tutti i maghi del mondo. Signore, classico gioco della corda. C'è un finale in questo giorno? No. Mago prende la corda in questa maniera qua. Prende i capi da una parte e il centro per l'altra parte. Adesso andremo a prendere un capo, un capo solo. Signore, state attenti. E lo sfigliamo. No, questa non c'è andata, però. Cosa ci faccio con sta roba qua? La corda senza capi non è un problema, eh? E c'ha l'orecchino, c'ha il trone? Qua. C'ha il trone lì? No. Sul padiglione auricolare. No, ma sa che con un cerchio diventa difficile fare dei giochi. Eh, mamma mia. No, peggio ancora. Un due pe... Va bene. Signore, mi hanno detto che sono bravo a fare le imitazioni. E qua ci va un stupore. No. E che entusiasmo, però. Sembrate parenti, vi siete trovati. Vi siete congiunti in questo momento. Sì, sì, ma volete vedere due imitazioni? Quelle belle. Quelle belle faccio sempre i bambini. Dai, qua adesso è bucato che se no non finiamo più. Dai. Dai, fate a te, fate a te. Mi dice. Allora. Che sei, che sei parente di congetta? Topolino. Topolino. Etto John. Vabbè, dai. Pamela Anderson. Maria De Filippi. No, Maria De Filippi no. Così può Maria De Filippi no. Così può Maria De Filippi. Non così. Senza i capi diventa un problema a fare i giochi. Va bene. Quindi mettiamo i capi sulla corda in questa maniera qua. La mettiamo così. Basta soffiare in questo punto. Sì, abbiamo scutato la prima fia nel frattempo. Tornate in terra. Non ci preoccupare. Loro l'avvista cosa la vogliono per il primo gioco. Non per questo. Andiamo verso l'allegro, il simpatico finale. Aspetta, Alex, hai un centro di vita che sei vivo? Perfetto. Non l'applauso ad Alex che vivo. Classica, non l'applauso. La corda tagliata e ricostruita. Il manolo mette la corda in questo modo. Va a prendere i capi, i capi nella mano sinistra, il centro nella mano destra. Prende i capi e va a inserirli esattamente all'interno della... Piano! Piano a dentro, eh! Della casa. Della casa. Ahia cosa, vi dice la casa. E il centro in mano. Adesso, signori, state attenti perché vedrete praticamente una manipolazione della Madonna. Allora! Allora, la Madonna mi ha telefonato, ha detto le mie me le faccio io. Non si può dire, la so niente. Vabbè, ma che roba lì. I capi sono tornati in mano e il centro in tasca. Ci sono totale... Non me ne sono accorto neanche io, eh! Eh, andiamo verso il finale, signori, il manolo prende la corda, se la passa dietro al collo, così. Eh! Dopodiché va a fare un giro attorno al collo in questa maniera qua. Sì! Signori, il manolo andrà ad annudare la corda qua davanti e inizia a stringere. Piano! Tirate fuori i cellulari che voglio godere questo momento. Fatelo perché potrebbe essere l'ultimo mio gioco. Signori, le infortune sempre le altre in questa volta tocca a me. Vada! Allora, il mago tirerà queste due corde, i due capi. Sì! E ci daranno delle cose in sequenza. Il mago prima diventerà rosso, poi paulanzo, viola, cruella terra. Chiamate 118 se non sono venuto. 112, è cambiato il numero uno. Ha cambiato? Eh, sì! Adesso mi dica anche che non ci sono più le cabine gettoni. Dal 93. Non ci sono più le cabine gettoni. Cazzo, quando tu... Allora! Allora, al mio tre. Uno. Due. No, conto io. Conto io. Non prenda. Non prende iniziativa. Uno. Eh. Due. Sì. Due un po'. Come due un po'? Uno, due, tre. Eh, vi faccio uno, due? Tre. C'è niente in mezzo? No, sono il suo collo, c'è in mezzo al tre. Signori, guardate a vederlo. Sìììì! Chi ti ha detto, no? Ve lo porto a casa, eh? No, no. Dipende quanto parlo, eh? Lascia la foto. In quel periodo di crisi. Uno. Uno. Due. E mezzo. Eh, allora! Prendiamo iniziativa! Mamma mia! No! Fermo! Uno, due, tre. No, lo contiamo assieme? No! Signori, uno, due, no! Uno, due, che hai due e mezzo qui allora, non finiamo più. Cioè, rimbalziamo, non prendete iniziative. Uno, due, allora, come ti chiami? Vuoi farlo te? No, devo! Come ti chiami? Michele. Michele, non devo distrarre che già io assaporo questo momento da anni. Voglio ricordarvi tutti così. No, vabbè, dai. Uno, due, tre. Ma c***o! No! No! Se mi fanno un applauso forte, io non c'ho il problema. Il ragazzo è bravo! Signore e signori! Signore, adesso l'ultimo effetto di questa piccola serie. No, l'ultimo effetto della serata per quanto riguarda Mr. Dynamic. Sì, signori, sono un mago, mi chiamo Mr. Dynamic. Sì, no, ancora! No, niente. Sarà un bellissimo gioco che vorrei farvi. Un effetto... Adesso diventerai loquace, forte e quasi intelligente. Eh, il miracolo io lo posso fare. Io risolvo i problemi, ma faccio il miracolo. Signore, signore, signore. Signore e signori. Signore, signore. Madame Messier. Allora, un bicchiere. Eh, sulla fiducia. Laggiù lo vedete? Vabbè, fatemelo raccontare. Bicchiere, bicchiere. Bicchiere, bicchiere. Bicchiere. Con velocità... Con velocità il Parkinson. No, no, sono andato in fede quest'anno. Il parco giochi per anziani era chiuso. Io poi spiegavo che il Parkinson è il parco giochi per...